dedica una canzone, una canzone che lei canta con la consueta forza, la forza di una voce inconfondibile, una voce che viene dalla Sardegna. La nostra prossima ospite è Maria Carta. La nostra prossima ospite, la nostra prossima ospite, la nostra prossima ospite. La nostra prossima ospite, la nostra prossima ospite. La nostra prossima ospite, la nostra prossima ospite. La nostra prossima ospite. La povertà, il dolore del mondo in questo Natale. Ma quando... La nostra prossima ospite.